Musica Bentrovati a tutti gli spettatori italiani così a queste le unizie flash provinciali del 27 luglio curate dalla nostra redazione Agira è mia priorità come previsto dal programma elettorale garantire ai cittadini la massima sicurezza e quanto sostiene il sindaco di Agira l'onorevole Maria Greco la quale recentemente ha approvato con l'aggiunta comunale l'incremento di un precedente stanziamento di 15.000 euro aggiungendo la somma di 29.000 euro per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza nella motivazione della delibera si legge che l'incremento dell'importo è dovuto a seguito del verificarsi di atti vandalici e di episodi che interessano la sicurezza pubblica l'aggiunta comunale ha dato mandato al dirigente del settore tecnico di compiere una perizia tecnica e successivamente sperire l'appalto la somma precedentemente stanziata ha detto il sindaco di Agira l'onorevole Maria Greco non è sufficiente per garantire un sistema di videosorveglianza diffuso in alcune zone strategiche del paese mi auguro che a seguito dell'importo previsto dall'attuale amministrazione si possa realizzare un sistema di videosorveglianza che garantisca una maggiore sicurezza dei cittadini ormai prosegue l'onorevole Maria Greco tutti i centri sono dotati di videosorveglianza con notevoli benefici collettivi inoltre la presenza delle telecamere può scoraggiare pubblicamente il verificarsi di fatti delinquenziali garantendo una maggiore visibilità e ovviamente sicurezza nei confronti dei cittadini delle realtà commerciali e produttive locali sul versante della viabilità l'amministrazione comunale ha provveduto inoltre a rettificare una precedente delibera assegnando la somma di 39.000 euro occorrente per la manutenzione straordinaria della strada di contrada Capodoro e via Elio Vittorini Nicosia disagi per i pazienti dell'ospedale Basilotta dopo il guasto del macchinario per effettuare le radiografie ed una vera e proprio di sé è stata vissuta da un giovane paziente che ha subito un'infortunio ad un dito giocando a calcio il paziente viene invitato a recarsi all'ospedale di Leonforte al ferro Branciforti Capra viene eseguita la radiografia ma la diagnosi deve essere effettuata a Nicosia non essendoci a Leonforte il reparto il paziente accompagnato dal padre torna a Nicosia dove viene medicato il dito rimesso a posto ma il padre deve ritornare a Leonforte per chiudere la cartella ed ottenere le dimissioni un caso paradossale che si aggrava nel caso di pazienti gravi che necessitano di essere accompagnati dal personale di Nicosia a Leonforte con mancanze di personale ed aggravi di spesa il macchinario a quanto pare è vetusto ed il cambio di appalto con la ditta che effettuava forditure e riparazioni presso il Basilotta ha rallentato la procedura per la riparazione che avverrà solo nei prossimi giorni Enna, grande partecipazione all'incontro e denuncio venerdì 17 luglio presso la sede di un'impresa edienne Caltanissetta con i sindaci e le amministrazioni comunali il scopo dell'incontro era di far conoscere dei bandi europei destinati proprio alle amministrazioni comunali il dottor Luca Di Salvo, esperto in bandi europee, ha illustrato ai numerosi amministratori presenti la possibilità per i loro comuni di accedere a 5 bandi finanziati dalla comunità europea ognuno riguardante aspetti diversi si è partiti con il turismo parlando di un bando che riguarda il sostegno alla realizzazione di manifestazioni turistiche si è passati poi a parlare di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani tra i bandi menzionati anche uno sulla sostenibilità ed efficienza energetica dei comuni che prevede 80 milioni di euro per quanto riguarda l'ambiente è stata illustrata l'opportunità di un contributo a fondo perduto fino al 75% per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile ed infine si è parlato anche di un finanziamento a tassa agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro la tomografia ottica computerizzata ora è garantita dal sistema sanitario regionale la spedienna presso l'unità operativa di oculistica del presidio ospedaliero Umberto I di Enna dispone dell'apparecchiatura per eseguire la tomografia ottica computerizzata l'OCT dichiarano i medici del reparto è un esame diagnostico non invasivo che permette di ottenere delle scansioni della cornea e della retina per la diagnosi e il fallout di numerose patologie corneali e retiniche fino a poche settimane fa tale esame era a totale carico del cittadino il decreto assessoriale del 799 del 2015 che ha aggiornato il nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ha ricompreso l'OCT nei LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza e quindi tra quelle erogabili a carico del sistema sanitario regionale pertanto dal 1 giugno 2015 il cittadino può eseguire l'OCT presso l'ambulatorio di oculistica dell'ospedale Umberto I seguendo la normale procedura di prenotazione e versando se dovuto il ticket con un balzo di 7,76 metri Filippo Randazzo della Pro Sport Val Guarnera ha vinto il titolo italiano assoluti di salto in lungo ai campionati italiani assoluti di atletica leggera in svolgimento allo stadio Primo Nebbiolo di Torino Randazzo a febbraio aveva conquistato anche il tricolore junior indoor e poco più di un mese fa a Rieti quello all'aperto sempre juniores con la misura di 7,63 metri inoltre poco più di una settimana fa con 7,74 metri aveva vinto in Svezia il bronzo ai campionati europei junior dietro a Randazzo si sono piazzati al secondo posto con 7,61 metri Camillo Caboret mentre al terzo posto Anton Marco Musso con 7,58 metri e con questo abbiamo concluso vi do appuntamento alla prossima edizione dell'unizia flash curata dalla redazione di Telenicosia per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione un saluto da Sergio Leonardi Grazie a tutti Grazie a tutti